Dottor De Mari, approfitto della tua compagnia, soffro di tossie asmatiche, un'alternativa al solito rimedio Ribes, cosa potrebbe consigliarvi? Allora, effettivamente nel momento in cui scegliamo un rimedio naturale per un asma allergico, un'allergia, pensiamo tutti quanti a Ribes, ma esistono delle nuove ricerche ad esempio per quanto riguarda la cipolla, mi rendo conto che quando parliamo di cipolla ti viene in mente quando tua moglie ti chiede di tagliare la cipolla per fare il soffritto del ragù e questo mi crea lacrimazione. Ma io parlo della soluzione idroalcolica, della tintura madre di cipolla, quindi una cipolla dove prendiamo l'acqua e l'alcol, insomma alla fine si è scoperto che all'interno ci sono diosolfonati che andrebbero ad inibire il puff. Il puff va a inibire un'iperreattività del sistema immunitario a livello dei polmoni, parole semplici, a un'azione anti-asmatica a livello bronchiale. E quindi questo, la tintura madre, la soluzione idroalcolica di cipolla rappresenta una buona alternativa al Ribes per quanto riguarda l'azione anti-asmatica, 25-30 gocce tre volte al giorno per chi soffre soprattutto di queste allergie stagionali. La ringrazio, noi veniamo a questo rimedio. Bene, ciao.